E questo qui è un canto di riscaldamento, di navurare e della dimostrazione come nella vita a volte si possono fare degli incontri inopinatamente straordinari. Vi invito a ripetere ciò che faccio e dico dopo, l'ho fatto e l'ho detto, ok? Tempo, ritmo, fantasia, meraviglia, gioco, si mescola, si rimescola, si rimescola, ci siamo. E questo è un canto di riscaldamento. 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 Un animal particolare, una mano assi, una mano assa, un piede assi, un piede assa, un piede assa. Aggata zi zi zi, aggata zi zi zi, aggata zah zah, aggata zah zah zah, aggata zah zah zah, tempo, ritmo, ritmo, tempo, gioco, netta giunga, netta giunga, quintute,ütte, naturale animale particolare, Un'anima particolare, una mano si, una mano lo sa, un piede si, un piede si, un piede sa, un piede sa, ma come fa fa fa, ma come fa fa fa, ma come fa fa fa, ma come fa 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 fa. RICO, 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 RICO. RICO, 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 RICO. RICO, 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 R Siassi, la spalla sa. Se direi assi, se direi sa. A presto, a presto, a presto. A presto, a presto, a presto. A presto, a presto. A presto, 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 a presto, a presto.